Rieccoci a Primo Siterpares, appuntamento del mercoledì e gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite il professor Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, l'agenzia italiana del farmaco e lo ringrazio della sua gentilezza nel venire a trovarmi. Prima di parlare, prima di mettere il titolo vero della puntata perché riguarda i vaccini, ovviamente ne parlavamo durante la pubblicità anche professore, l'economia bisogna guardarla con un certo rispetto come anche il virus e qui come la mettiamo? Io non vorrei essere nei panni di un decisore, sono decisioni un politico, uno che ha la responsabilità per i cittadini che governa. Oggi si tratta di scegliere, ecco diciamo estremizziamo i termini, se morire di Covid o morire di povertà, morire di mancanza di acculturamento, morire di incapacità di mantenere le risorse di produrre un pil che a sua volta ci permette di salvaguardare la sanità e la ricerca che è fondamentale come ho appena detto. Quindi sono scelte molto difficili, è chiaro che si cerca di ottemperare entrambe le esigenze e lo hanno fatto tutti i paesi del mondo, tranne uno, come lei sa, che è la Cina, che ha capacità decisionali e ha estinto in 100 giorni l'epidemia. Però ho letto, mi scusi professore se ne interrompo, che dicevano 50 mila morti, ho letto proprio ieri 500 mila morti, ho letto su un articolo, non ho verificato, non vuole dire una musia, però la fonte è abbastanza... Noi dobbiamo attenerci ai dati ufficiali, quindi io dico è una conundrum, è una decisione molto difficile. Certo che ricordiamo che è fondamentale, soprattutto per un paese come il nostro, che si è fondato su un boom economico che è fatto di piccole, medie aziende, non di aziende statali e mi riferisco non alla Cina soltanto, mi riferisco anche alla Germania, e alla Francia, quindi è al turismo, noi viviamo di questo, quindi è tutta questa attività imprenditoriale che sta venendo meno con il rischio di chiusura, quindi sono decisioni molto difficili da prendere. E quindi lei cosa farebbe? Ma io non faccio il decisore. Giorgio Polo, professor Giorgio Polo cosa farebbe? Beh, ovviamente... Un consiglio può darlo, è anche un consiglio esperto anche a lei, insomma. Io ho un limite che ovviamente guarderei prima alla salute, alla biologia e a tutto quello che è salvaguardare ovviamente le competenze e la salute dei cittadini, però ovviamente è un equilibrio molto difficile da ottenere. Va bene, è davvero difficile, professore, ha perfettamente ragione. Chiedo alla Gia, se mi mette il titolo della trasmissione, perché siamo pronti per il vaccino? Abbiamo messo questo titolo. Allora, io ho estrapolato un filmato, professore Palù. Andiamo a vedere cosa fa il vaccino veramente. Adesso lo osserveremo e poi ne parleremo con lei. Vediamo. Esistono diversi modi per poter proteggere una persona da un agente patogeno con un vaccino. Qui esaminiamo l'approccio di un vaccino a mRNA. mRNA sta per acido ribonucleico messaggero. Si tratta di molecole messaggeri come quelle che le nostre cellule usano a migliaia in modo naturale. L'mRNA contiene le strutture per la produzione di proteine. Tutte le proteine nelle cellule del nostro corpo vengono formate sulla base dell'mRNA. Con un vaccino a mRNA ci viene somministrato mRNA che contiene la struttura per una proteina di un agente patogeno. Non appena l'mRNA del vaccino giunge nel corpo, deve prima entrare nelle cellule per completare con successo il suo compito. Non bisogna perdere tempo perché l'mRNA si degrada rapidamente in natura. Una volta nella cellula, l'mRNA si aggancia un ribosoma. Il ribosoma ha la capacità di leggere la struttura dell'mRNA e produce la proteina target secondo le istruzioni. Nel caso del vaccino si tratta della proteina di un agente patogeno. La proteina patogena appena prodotta viene trasportata sulla superficie cellulare per essere presentata al sistema immunitario ed essere verificata. Il sistema immunitario riconosce che si tratta di una proteina estranea che potrebbe appartenere a un agente patogeno pericoloso e che deve essere combattuta. Come reazione, il sistema immunitario mobilita un ampio arsenale di meccanismi difensivi. Oltre a specifiche cellule di difesa immunitaria, si formano soprattutto anticorpi in grado di combattere ed eliminare specificamente la proteina patogena. E per proteggerci a lungo termine, il nostro sistema immunitario ricorda quali anticorpi funzionano meglio contro un determinato agente patogeno. La particolarità del vaccino amRNA è che ci permette di produrre, naturalmente nelle nostre cellule, la proteina patogena che innesca la difesa immunitaria. Con la vaccinazione non riceviamo quindi l'agente patogeno, ma solo la struttura per una delle sue proteine. La tecnologia dei vaccini a mRNA è relativamente nuova ed è attualmente oggetto di approfondite ricerche. Grazie alle precedenti scoperte mediche sulla sicurezza e sull'efficacia, questa tecnologia ha un grande potenziale per il futuro. Abbiamo cercato di spiegarlo in maniera, ovviamente con i biologi e con i tecnici, non io l'ho preparato, però in modo che sia comprensibile e capibile. Complimenti, avete fatto bene. Comprensibile e di conseguenza la prima domanda, è sicuro il vaccino Pfizer secondo lei? È un importante che io lo dica, ce l'hanno detto gli enti regolatori. Ma anche importante se me lo dice lei. Ma no, guardi, queste cose, io non siedo, siedo in un ente regolatorio nazionale che queste cose le vede, quindi io ho visto il materiale che l'industria farmaceutica ha dato all'EMA, ma la decisione non è stata presa a livello di enti regolatori nazionali, ma internazionali, quindi tipo l'FDA, l'EMA, che è l'agenzia che si ricorda una volta era situata a Londra e poi contesa tra Milano e Amsterdam e con la monetina è andata ad Amsterdam. Quindi certo che è stata valutata per sicurezza ed è sicura, nel senso che gli eventi cosiddetti avversi sono stati valutati da commissioni di esperti che siedono sia nell'FDA che nell'EMA, si chiama C-HMP. Ma secondo lei questo vaccino può modificare il DNA di una persona, può cambiarlo oppure o no, secondo lei? L'avete spiegato voi, l'RNA non si integra nel nostro genoma e ha una vita breve. Questo RNA messaggero è modificato per durare un po' di più, perché altrimenti si degraderebbe in pochi secondi e per permettere di essere rilasciato all'interno delle nostre cellule, avvolto in una specie di membrana lipidica, in modo che sia preso, fagocitato dalle cellule, in particolare quelle che poi presenteranno l'antigene che viene prodotto da questo mRNA, quindi è assolutamente impossibile che questo modifichi la struttura del nostro genoma. Quindi per questo motivo è anche abbastanza sicuro, insomma possiamo dire... Ecco, diciamo la verità sulla sicurezza e sugli eventi avversi. Moderna, io la conosco perché è una biotech vicino a Boston, dove so anche alcune persone che ci lavorano lì dentro, quando ero a Boston o quando frequentavo Harvard. È dieci anni che lavorano sulle modificazioni dell'RNA e oggi questa è una tecnologia che una volta si faceva con ingegneria genetica, passando attraverso delle sintesi fatte da batteri. Oggi con la biologia sintetica siamo in grado di sintetizzare non solo l'RNA, il genoma, ma addirittura di creare degli organismi. Se si ricorda, Craig Venter, oltre ad aver sequenziato il genoma umano, ha creato il primo microbo in vitro. Quindi è una tecnologia molto duttile e molto rapida e questo spiega anche la velocità con cui siamo arrivati al vaccino. Però diciamo che l'RNA solitamente è una molecola che è riconosciuta dai nostri sensori che si trovano all'interno della cellula, sulla membrana plasmatica o nelle membrane dei vacuoli cellulari, che riconoscono l'RNA il più delle volte, quando è conformato in una determinata maniera, come estraneo e reagiscono. Quindi l'RNA è una molecola reattogenica perché induce una specie di infiammazione. Perché lo fa? Perché il nostro organismo pensa di incontrare un qualcosa di estraneo e quindi vi reagisce con l'infiammazione. E questo è uno dei principali elementi che possono, da un punto di vista, compromettere non l'efficacia del vaccino, ma produrre effetti colaterali. Quindi questo è stato ovviato come? Si è ovviato studiando dei nucleotidi che siano un po' diversi da quelli. I nucleotidi sono i mattoncini che formano la sequenza dell'acido ribonucleico e dell'RNA messaggero, modificandoli, soprattutto delle pseudoridine, facendogli perdere alcuni legami idrogeno, quindi modificando alcuni atomi in modo che non interagiscono troppo e quindi si è diminuita la reattogenicità, cioè la capacità di indurre una reazione infiammatoria allergica. Ecco, quindi gli effetti collaterali quali sono? Allora, sappiamo che effetti gravissimi non ce ne sono stati, mortali. Ci sono stati effetti molto rari, uno su centomila, come reazioni allergiche gravi o anafilattiche, soprattutto in soggetti che erano suscettibili a svilupparle. Ci sono effetti locali come tutti i vaccini, quindi arrossamento e dolore nella sede dell'inoculo, febbre, nel deltoide intramuscolare e effetti sistemici nel 20-30% dei casi che però sono effetti lievi come dolore muscolare, artralgia, dolore articolare, spossatezza, rialzo della temperatura, cefalea, qualche volta molto rara una paralisi del facciale. Ecco, questi sono gli effetti che sono né più né meno, forse un po' di più, ma non tanto di più, per essere come gli altri, degli altri vaccini. Ecco, volevo dare anche una spiegazione per il nostro pubblico. Lei ormai parla in termini tecnici incomprensibili alla persona. Io l'altra volta l'ho ascoltato. Credo di essere stato a livello del vostro sketch. No, certo. E ho cercato di prepararmi nei limiti miei perché io non sono sicuramente né un medico né un virologo. E allora mi chiedo, ma cos'è questo RNA? Allora sono andato a vedere cos'è l'RNA perché me lo sono studiato, ho cercato di capirlo perché tanta gente non sa. Poi ti accorgi che è una cosa basilare nei vaccini, però devi prepararlo, tanta gente non lo sa. Ecco il motivo per cui uno, tramite questo virus, ha iniziato a conoscere anche certe parole che erano un attimino sconosciute. Ma torniamo a noi. Senta, professore, questo virus è sconosciuto perché è sconosciuto un po' a tutti. E un vaccino, inocularlo a un'intera popolazione mondiale, non lo trovo un po' rischioso? Guardi, io faccio una domanda a lei. Ecco, noi ci stiamo parlando di quello che avviene nel mondo occidentale. Quindi un vaccino che viene proposto gratuitamente, senza obbligo, ha alla popolazione. E questo parliamo del mondo occidentale. Stiamo dimenticando che questo è un virus, non so se si possa dire ancora, che è un virus cinese. Forse non lo si dice più perché non è politically correct, ma è un virus cinese. Perché non ci poniamo la domanda che i cinesi stanno vaccinando un intero continente africano, il sud-est del Medio Oriente, Emirati Arabi e parte dell'America Latina. Non ci stiamo chiedendo perché? O se hanno fatto tutte queste prove? Allora, io dico, ecco, certo che va vaccinata. Anzi, dovremmo preoccuparci che non vengono vaccinate persone a sufficienza. Per essere rassicurato, capito, perché la domanda, abbiamo parlato che è un virus conosciuto e qui riusciamo in nove mesi a vaccinare una popolazione di un mondo intero, dico, mamma mia, siamo sicuri di questo? Guardi, era sconosciuto il virus. Mi sembra una domanda banale. Il virus era sconosciuto. Dopo nemmeno di un mese conoscevamo la struttura dei suoi 26 geni. Neanche un mese. Addirittura risolti a livello atomico quelli che sono gli enzimi principali che fanno replicare il virus. Quindi, scrinate, come le dicevo, milioni e milioni di molecole. Quindi non si può dire, l'abbiamo conosciuto, la scienza ha fatto dei passi enormi. È chiaro che quando entriamo nel campo medico-clinico e dobbiamo vaccinare un'intera popolazione, beh, ecco, ci sono degli studi di sicurezza e, diciamo, la capacità del nostro sistema immunitario di riconoscere e che quella risposta che avete visto, non solo gli anticorpi, ma le cellule che si chiamano linfociti, permangono a lungo, quanto a lungo, che siano capaci di neutralizzare tutte le varianti che inevitabilmente insorgeranno perché è un virus più replica e più muta e anche questo virus muta. Ecco, queste sono le vere domande che ci dobbiamo fare. Ma non tanto quella di dirci... Sono state fatte queste informazioni, sono arrivate anche in laboratorio, quindi? Ma come sono arrivate? Ecco, è la comunità scientifica, se lei guarda, mai come ora si sono pubblicati tanti lavori in un tempo così rapido su questo virus, su SARS-CoV-2, quindi e anche tanti studi clinici sul Covid-19 che è la malattia, che è la sindrome causata dal virus. Quindi la domanda che ci dobbiamo porre è, è giusto vaccinare? Certo che è giusto vaccinare. Perché conosciamo i rischi? Quali sono i rischi? Ma ne abbiamo parlati prima. è un rischio non solo di morire e la letalità fortunatamente non è quella del SARS o della MERS, lo sappiamo dagli studi di seroprevalenza che hanno fatto anche i cinesi, che hanno fatto i tedeschi, che hanno fatto gli americani, cioè quando si sa esattamente quanto è circolato il virus, quindi abbiamo il denominatore, le persone che lo hanno incontrato, possiamo dire qual è la letalità. Fortunatamente la letalità non è così elevata, ma li vediamo morire questi soggetti. Quindi cosa dobbiamo fare? Il vaccino è il metodo che abbiamo. I farmaci arriveranno ma un po' più di ritardo. Il vaccino, come avete mostrato voi, si è potuto fare così rapidamente anche perché i vecchi vaccini impiegavano più tempo, l'RNA è una molecola più duttile. Si pensi che noi oggi potremmo modificare il vaccino nel giro di due settimane con questa tecnologia che si chiama biologia sintetica. Quindi la domanda è giusto vaccinare? Certo che è giusto, perché è una pandemia che sta interessando tutto il mondo con impatto non solo sanitario, è impatto economico, sociale, culturale. Quindi certo che il mondo si è dato da fare. Sì, la regia ha messo le immagini quando sono arrivati i vaccini. C'è stata anche qui una comunicazione davvero scoltata dai carabinieri e un'importanza a livello mondiale da quando sono prendi in Belgio i vaccini. Senta Professor Palù, ce ne sono molti vaccini che arriveranno in futuro per questo virus. Sono tutti efficaci allo stesso modo oppure ci saranno diversità tra di loro. È bene che la gente sappia che quelle che chiamiamo piattaforme tecnologiche sono diversificate. Fino agli anni 60-70 per produrre un vaccino si faceva come faceva Pasteur nel 1800-1850. Si isolava il germe o la tossina, la si purificava, la si inattivava, cioè lo si rendeva innocuo e lo si inoculava. Oggi, dagli anni 70, con l'avvento dell'ingegneria genetica, il primo vaccino genetico è stato quello per l'epatite B, ma ricordo che c'era un vaccino dell'istituto Pasteur che si basava sul virus purificato trattato col formolo né più né meno come il virus della polio o addirittura essiccato come faceva Pasteur per il virus della rabbia. Poi ci sono state ulteriori evoluzioni, quindi abbiamo diverse plateforme. I cinesi hanno due vaccini basati su virus ucciso. Hanno vaccini, come li abbiamo anche noi, basati su vettori virali. Quindi oggi noi possiamo prendere dei virus innocui o resi innocui geneticamente che rilasciano all'interno proprio quell'RNA messaggero che fa codificare la proteina. Abbiamo vaccini basati, sempre su base ingegneria genetica, su proteine purificate ottenute con ingegneria genetica, con DNA ricombinante, anche l'epatite ovviamente, ma c'è un vaccino anche per il SARS-CoV-2 su questa base. Abbiamo vaccini prodotti con l'RNA, abbiamo vaccini con virus vivo attenuato in cui si sono modificate le lettere dell'alfabeto del codice genetico e reso meno virulenta. Quindi tutti questi vaccini vengono testati dalle, diciamo, gli enti regolatori che chiedono all'industria farmaceutica di dargli i dati. E ecco, quello che possiamo dire è che i due vaccini a RNA, che uno è il Pfizer-BioNTech e il prossimo che è già stato validato negli Stati Uniti, che è moderna, ha la stessa tecnologia, sarà validato dall'EMA, si diceva il 6 gennaio, ho sentito ieri, che verrà anticipato al 29 e 30 di gennaio. Quindi questi due vaccini hanno un'efficacia superiore al 90%, intorno al 95%. Senta, professore, prima della pubblicità, se qualcosa va storto c'è una rete di sicurezza? Allora, la rete di sicurezza si chiama farmaco sorveglianza, che hanno tutti i paesi. Questa è strutturata nelle agenzie del farmaco nazionali, che hanno una commissione, ma hanno anche una rete informatica con l'anagrafe vaccinale delle regioni. Ricordo appunto che il Veneto è la prima regione d'Italia ad aver avuto un'anagrafe vaccinale. È la regione che ha sempre avuto il più alto tasso di copertura vaccinale. È la regione che ha trasmesso prima i dati al Ministero, anche questa volta. Quindi è strutturata. Perché i Veneti? Perché i Veneti hanno sempre creduto nei vaccini, io direi per quelle ragioni storiche che ci vengono da Venezia e da una università che il prossimo anno compie 800 anni di storia e quindi ha insegnato qual è il peso e l'impatto della scienza. Quindi c'è una commissione della farmacovigilanza cosa fa? Prende tutti i dati, i dati comprendono le reazioni avverse. Le reazioni avverse vengono catalogate e sono già stati distribuiti gli affetti avversi dall'AIFA, abbiamo incluso anche quelli più strani e questi vengono riportati. In base a questo ovviamente si può interrompere in un soggetto la vaccinazione o prendere misure più generali. Non solo, ma questa commissione, e qua ci ho messo del mio, farà in modo di attivare una sorveglianza immunologica, cioè vedere quant'è e qual è la qualità della risposta immunitaria e soprattutto, diciamolo, è una sorveglianza virologica. Quindi non possiamo trovarci che gli inglesi hanno sequenziato quel consorzio Arctic 60.000 e più genomi e noi 900. Quindi le varianti inglese non è inglese, è semplicemente perché loro hanno sequenziato più genomi. Abbiamo visto che c'è anche in Italia. Quindi è fondamentale seguire l'evoluzione del virus man mano che le persone vengono vaccinate. Potrebbe darsi il caso che ci sia un cosiddetto escape mutant, un mutante che sfugge al controllo della risposta indotta dai vaccini, anche se è molto improbabile. Lo dico subito perché già gli primi studi preliminari effettuati dall'azienda farmaceutica, sia dall'Università del Texas ma da altre università, dagli stessi inglesi, dimostrano che gli anticorpi prodotti riconoscono tutta quella proteina che ha visto è molto lunga, è più di 1250 aminoacidi in diversi punti. Quindi c'è la possibilità di coprire anche le varie varianti che insorgono. Quindi c'è un po' di sicurezza. E poi ricordiamo, ecco, sì, c'è una farmacovigilanza a tutti i livelli, sugli effetti avversi, sulla risposta immunitaria, sull'evoluzione genetica del virus. Quindi potremmo essere pronti ad affrontarla con quali altre armi? Beh, un vaccino ad RNA si può fare in due settimane. Ha già passato tutte le tappe regolatorie, si sostituisce uno o due nucleotidi oppure avremo presto a disposizione anticorpi monoclonali, sono cocktail di anticorpi che bersagliano diversi siti nella molecola. È un'ulteriore garanzia di sicurezza, insomma, per chi ha il terrore del vaccino di non farlo per mille... Credete alla scienza. Ah, io ci credo, professore. Questo è l'invito che rivolgo ai telespettatori. Certo. Andiamo a pubblicità, poi l'ultima parte, tra poco.